Mesi di inattività, palestre chiuse, sale attrezzi vuote, corsi fermi, un bilancio da profondo rosso. La chiusura di palestre e centri fitness risale ormai a ottobre, mesi di stop che hanno portato perdite di fatturato drammatiche in uno stop invernale che da sempre rappresenta la stagione più proficua. Date certe sulla riapertura non ce ne sono, i ristori sono miseri, frustrante l'incertezza sulle nuove regole. A tutela dell'intero settore a dicembre è nata la LIS, Lega Imprese Sportive, un'associazione di categoria fondata con l'obiettivo di tutelare il mondo dei lavoratori che gravita attorno alle palestre, ai centri sportivi e fitness. Vincenzo Di Rado, titolare di una palestra, ad ottobre si incatenò per manifestare il disappunto nei confronti di una chiusura giudicata assurda. Ci sentiamo penalizzati soprattutto perché è stato dimostrato che durante questo lockdown noi sono tre mesi che siamo chiusi e quindi i dati dicono che non c'erano prove che i contagi si rifondessero nelle palestre, nelle piscine, nei centri sportivi e soprattutto dopo che siamo stati chiusi i contagi aumentano e quindi veniamo penalizzati noi che continuiamo a stare chiusi. E quindi approfitto per dire che è nata la LIS, la Lega Imprese Sportive, che è un sindacato che rappresenta tutto il mondo sportivo, che presenterà delle istanze. Venerdì probabilmente saremo in diretta sulla piattaforma dove approfitto per tutti per inserirsi e mettere idee, proposte, problematiche da proporre al nostro Ministro dello Sport. Perché soprattutto dobbiamo pensare a una ripartenza dove lo sport deve essere centrale e aumentare i momenti di operatività. Quindi soprattutto bonus salute da dare a tutte le famiglie spendibili in attività motorie e sportive riconosciuti. Quindi soprattutto chiarezza per il nostro futuro.